Il fatto che esca un disco fit, stato di natura, che si basa sull'incontro in un momento così delicato in cui non possiamo incontrarci fisicamente è ovviamente molto strano, però credo anche che questo disco, proprio perché ha come caratteristica anche semplicemente sonora quello di essere un disco molto energico, pulsante, vivo, possa fare davvero bene in questo momento delicato. E credo che possa portare anche una ventata di positività a tutte le persone che in questo momento sono a casa e credo che la musica non si debba fermare proprio adesso perché abbiamo bisogno di ascoltare musica, di coltivare bellezza, di fare cose che in qualche modo ci scaldano il cuore e ci mantengono vivi e anche sereni per quanto il momento sia complesso. Questi giorni li vivo con una grande responsabilità sociale, quindi rimango a casa, cerco di approfittare di questi momenti per studiare, per lavorare, per scrivere. Ovviamente, ripeto, è un momento complesso, quindi sono anche molto concentrata sull'attualità, però credo che quello che stiamo facendo tutti assieme è una sorta di missione, quindi in qualche modo siamo qui, anche se in casa e quindi distanti fisicamente gli uni dagli altri, per sostenere le persone più deboli, più fragili e per darci una mano gli uni con gli altri. La scelta di creare un progetto particolare come quello di Fit, che vede 11 tracce, 11 featuring e altrettanti produttori, nasce dall'esigenza proprio personale di creare un progetto collettivo, di creare qualcosa che fosse una celebrazione di incontri, di diversità e di confronti. E anche in questa mia fase, comunque in cui sono ancora molto giovane e amo sperimentare, arrivo da un disco chiaramente diverso, molto personale, molto ermetico, avevo bisogno di mettermi in ascolto, di collaborare, di creare una rete di relazioni artistiche e personale che mi permettessero di creare qualcosa di unico e di diverso da quanto avevo fatto prima. Questo disco è stato anticipato da tre serate molto speciali, da tre anteprime, che mi hanno vista alle prese con dei set completamente diversi. La prima serata, che è stata svolta a Rocket di Milano, l'abbiamo chiamata Vintage Electro, con me c'era Bruno Bellissimo, abbiamo sostanzialmente remixato i vari brani del mio percorso musicale in chiave danzereccia, per aprire le danze proprio a questo progetto in tutti i sensi e abbiamo presentato per la prima volta, in anteprima, Gange, che è il brano con Shiva, che è uscito qualche settimana fa. La settimana successiva ci siamo dovuti chiaramente adattare alla nuova situazione, quindi sia il secondo che il terzo set li abbiamo preparati a porte chiuse, il primo in diretta a Facebook e l'altro è andato su Raiplay e l'abbiamo realizzato dalla Trenale Milano, un luogo bellissimo. Quindi questo secondo set, definito Urban Orchestra Set, che mi vedeva al pianoforte, accompagnata da un quartetto d'archi, basso e percussioni classiche elettroniche, è stato veramente forse un set più emotivo, più profondo, più intimista e abbiamo presentato con la presenza dei Comacose, Riserva Naturale, in anteprima, che è uscito appunto a mezzanotte del venerdì. Mentre il terzo set, chiamato Milano Multietnica, perché sono stata affiancata dai Selton e dall'orchestra di Piazza Vittorio, è stato appunto un set che ha visto i brani vestiti con colori che provenivano da parti diverse del mondo, con sonorità nuove, di paesi lontani, mischiate chiaramente con la caratteristica urban milanese, quindi un set molto ricco che forse rappresentava, incarnava proprio sonoramente quello che è l'incontro in tutti i sensi. Con noi c'è stato Fabri Fibra ed è stato un onore averlo con noi e abbiamo presentato Monolocale. Ovviamente, ripeto, ci siamo dovuti adattare alle nuove norme e quindi non c'era il pubblico, però sono stata felice di poter portare la mia musica nelle case dei miei fan, delle persone che mi seguono e in qualche modo di fare anche qualcosa di bello per gli altri attraverso la mia musica in un momento così delicato. Sicuramente è stato di natura, è il manifesto di questo progetto, non a caso è anche la traccia che apre il disco, la prima della tracklist, che mi vede in una veste crossover affiancata dai Maneskin. Il brano è chiaramente un brano molto forte, con delle tematiche anche molto importanti a livello sociale perché riflette sul peso delle parole, sulla violenza verbale e su quanto le nostre stesse parole, nello specifico, sappiano ferire e ancora oggi feriscano la donna, la figura femminile, la femminilità che in qualche modo non riesce mai ad esprimersi come desidera ed è sempre attaccata dalla società. Per questo ho anche voluto la presenza dei Maneskin di Damiano, che ha saputo dare con una prospettiva fresca, giovane e di ragazzo, di uomo, una chiave di lettura interessante. E quindi devo dire che è sicuramente uno dei brani di cui sono più orgogliosa, anche perché soprattutto con la presenza dei Maneskin è stato reso ancora più energico di quanto era stato creato.